Allora ragazzi, l'altro pezzo non ho potuto registrare, comunque siamo arrivati fin qui dove vi faccio vedere adesso, lei è stata catturata dopo che abbiamo ucciso tutti quei maiali là dentro a quell'edificio, è stata catturata, ha rischiato di essere impiccata, poi è arrivato il figlio di Yara e è riuscito a liberare lei e uccidere i suoi carnefici che stavano spaccando le braccia alla madre, ora vi faccio vedere. Porca puttana, e siamo arrivati qui, quel ragazzino lì ha liberato Yara e lei che stava per essere impiccata, adesso di qua dobbiamo andarcene via. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. apri apri ok grazie a loro se abbia riuscito a liberarsi poi lei ha ucciso il Serafit al capo da impiccata è riuscita a mettergli le gambe intorno al collo minchia l'ha ammazzato no non mi dire che devo bastarda noia niente porca troia aspetta deviare adesso nooo no la muori bastarda mamma mia che vita ragazzi comunque il gioco lo conoscete non ho potuto registrarlo l'altro pezzo perché stavo parlando con mia madre ma comunque il gioco si sa è questo mi chiedo scusa questo è più forte no la no la ma la mia un po' di tranquillità eh il braccio è messo male gliel'hanno preso a martellate certo ma non mi fa potenziare niente perché non ho raccolto niente sono tutte vedi c'ho solo due non posso fare niente dai andiamo avanti non si può fare niente c'è solo 2% di da poter costruire come attrezzatura quindi quindi aspetta però ragazzi io devo farmi un po' più di potenziamento guare perché sennò almeno almeno le pistole almeno almeno le pistole raga poi bisogna vedere dove dobbiamo andare anche dunque ragazzi poi ci salutiamo qua niente non c'è un cazzo no no la tieni in attesa cosa c'è qua e di mi auguro di tutto cuore che tu stia bene la tregua è stata infranta e ci hanno richiamato la base per nuove segnazioni ho mandato due gruppi cercati in vano spero che trovi questo messaggio e torni da noi iene maledette Matt ok state lì in quella stanzetta non vi preoccupate guardate voi boietti al sacco come ottenere munizioni improvvisate dagli oggetti di casa bene bene ramo di potenziamento raggiunto però noi ne facciamo una volta ok quindi ok abbiamo fatto tutto qui abbiamo potenziato un po' il nostro piccolo arsenale allora di qua non c'è più niente andiamo a vedere se riusciamo a potenziare qualcosa ma ho i miei dubbi dov'era il banco da lavoro non c'è più vediamo quanti ne abbiamo ma non credo no 29 non fai un cazzo via non fai niente con 29 al minimo i 50 andiamo dai andiamo andiamo io penso di aver raccolto tutto credo si andiamo eh ma aspettate però ragazzi dovete andare con calma perché qui c'è da guardare questo è un gommista che cazzo eh vedi quanto c'è da esplorare qua dentro andiamo con calma viaggiate sempre vicino alle cose qui c'è i cerchioni questo è uno scaffale presumo dove mettevano vai aspetta boccetta vai con calma tranquillo non fare il cretino vedi andiamo a guardare tutto ragazzi tutto 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 ma è giusto che sia così se no secondo me non riusciresti neanche a giocarlo questo gioco perché sarebbe impossibile se non hai le scorte come fai qui non si tratta solo di sopravvivere qui si tratta di sparare anche quindi di qua anche non c'è niente qui niente dopo facciamo il bancone lì dietro parterra c'è una bottiglia non c'intera le bottiglie fai un cazzo con le bottiglie ok andiamo a vedere dietro sto bancone vedi guarda la roba che c'è qua da prendere vedi guarda la roba che c'è qua da prendere niente vi direi che qui siamo se siamo a posto così allora andiamo a infilarci in questa stanzetta dove cazzo è qua ok aspettate però con calma e ok possiamo andare questa vedete c'è il braccio rotto gliel'hanno preso a martellate quando hanno catturato Abby poi è arrivato suo figlio di Yara tirato due frecce ha ammazzato i due che stavano rompendo le braccia sonora e poi quella là che era l'artefice di averla fatta catturare la Abby è riuscita a mettergli le gambe intorno al collo e l'ha spaccato l'osso del collo tutto lì e poi da lì siamo andati avanti col combattimento che avete visto attenzione al massimo ok qui abbiamo preso tutto andiamo seguitemi dai seguitemi e dove dobbiamo andare dai venite forza andiamo di qua andiamo di qua tutto buio porca puttana e voilà vedete quando era impiccata l'ha uccisa con le gambe in questa maniera non chiaramente con le braccia e poi cosa c'è minchia non si vede una mazza oh porca puttana aspetta ragazzo aspetta calma no 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 non si sale allora bisogna andare di qua ma un po' sto asciutto ah minchia qua dentro si capisce un cazzo con tutto sto buio che cazzo facciamo calma calma su usciamo da qua dentro basta solo guardare ma bisogna andare con calma questo è un gioco che bisogna fare non bisogna andare frenetici perchè se no non no li so ma di qua volendo si può saltare però io voglio prima andare a vedere qui e anche di là voglio andare di là qui ah ok ma io guardo sempre che abbiamo preso tutto perché attenzione dove metti i piedi ma quella stanzetta là non si può andare per quale motivo non si può andare di là vediamo un po' eh no non salta di lì non è che passa sul fianco del muro ok vabbè dai siamo scesi qua no io non è che davvero akkor ma non è che il giro è che l'apvenimentale è che il giro è che il giro è che il giro è che la mappa è mi può fare giusto tesoro ma vedi quale roba che c'è da pigliare guarda c'è niente ok allora dobbiamo infilarci lì presumo però qui c'è anche una porta da aprire allora facciamo una cosa alla volta facciamo una stanzetta alla volta non passa qua risto sempre la precisione mi raccomando perché se no non si possono giocare i giochi presumo che queste stanze colleghino e poi ce la porta giusto si e niente di qua abbiamo fatto tutto o no no vedi che non abbiamo fatto tutto ah si ok e allora fuori di vale fuori di vale vieni apriamo con la porta ecco già è già e poi ci salutiamo qua ragazzi perché già è tanto che registra scusate per il video della fattura di ebby ma non sono riuscito a registrarlo io grossomodo ve l'ho spiegato e poi da lì siamo arrivati fin qua con il combattimento cazzo fai presto fai presto fai presto fai presto Ah! Ma come si fa dai? Che esagerazione No io quando sono così davvero non ci sto dentro Cioè ragazzi Ci salutiamo qua Ciao ciao